Siamo con Piero Bitetti, candidato al Consiglio regionale pugliese con Italia in Comune, a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. Questa è l'intervista finale rispetto appunto a tutta una serie di interviste nelle quali abbiamo affrontato varie e tante tematiche di ambito regionale. Questo è il momento finale, dicevo, e quindi l'appello al voto. Bitetti, immagini di avere dinanzi a sé l'elettorato tarantino, ogni singolo elettore. Perché votare Bitetti? Perché dargli la fiducia? Perché scrivere accanto ad Italia in Comune Bitetti? Ma semplicemente perché Taranto merita di più. Taranto merita di contare di più. Merita di contare di più in regione, merita di contare di più rispetto alla vicina Bari, alla vicina Lecce. Taranto merita centralità. Taranto merita una propria rappresentanza. Una rappresentanza fatta da una squadra che ha competenze, che ha esperienza, che ha conoscenza del territorio, ai fini di garantire ai cittadini benessere. Deve per benessere intendiamo l'aspetto sanitario, ma anche l'aspetto sociale, ma anche l'aspetto economico. Porteremo in regione esperienza e competenza ai fini di poter garantire una filiera istituzionale che parta dalle amministrazioni locali, passando dalla regione e arrivando lì dove serve ai riferimenti nazionali. Grazie a tutti.